buongiorno a tutti o buona serata se vi trovate in australia o nuova zelanda grazie per essere qui nella nostra conversa seconda conversazione online dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere io mi chiamo marilia jannotta e sono la direttrice di comunicazione modello a questo incontro di oggi e prima di incominciare vi darò alcune informazioni tecniche come probabilmente saprete i nostri interpreti forniranno la traduzione simultanea in quattro lingue vale a dire spagnolo francese italiano e tedesco i canali di interpretariato sono disponibili cliccando sull'icona da forma di mondo in basso sullo schermo per il momento vi chiediamo di spegnere i microfoni vi daremo la parola alla fine dei discorsi dei nostri relatori quindi incominciamo ci sono ancora la storia di abusi che vengono riferite da cristiani ma sono ancora un piccolo numero alcune si concentrano su tematiche meno note e su comportamenti abusivi che spesso avvengono all'interno della chiesa e parliamo quindi degli abusi di spirituali e di coscienza è incomprensibile che degli abusi spirituali possano verificarsi all'interno della chiesa ma probabilmente di questi abusi non si parla spesso perché non tutti li riconoscono oppure non li considerano un problema ora è importante comprendere come sia difficile per le persone comprendere cosa stanno vivendo e quanto questo rappresenta un abuso spirituale molto spesso questo fenomeno avviene in una maniera poco chiara e poco facile da comprendere per le vittime i primi passaggi possono consistere in manipolazioni di vario genere ma anche nel guadagnarsi la fiducia parliamo di problemi legati anche al voto di obbedienza che spesso possono portare a abusi di potere e traumi tremendi quindi quando avviene un abuso spirituale cosa viene considerato come abuso spirituale sono sicura che le nostre relatrici di oggi ci aiuteranno a comprendere meglio di cosa stiamo parlando ma per iniziare a in questo punto cerchiamo di dare un'occhiata insieme al video che abbiamo preparato è un video didattico dei vari che abbiamo preparato con la dottoressa rossio figueroa che con noi oggi insieme alla dottoressa doris reisinger ciascuno di questi video si è concentrato su vari aspetti della vita religiosa che speriamo potranno aiutare i giovani religiosi a riconoscere le situazioni di abuso a questo punto possiamo incominciare nel momento della professione si prendono tre voti la povertà castità e obbedienza parliamo della povertà votarsi alla povertà significa abbracciare un stile di vita semplice servire agli altri e vivere lavorare con oggetti che servono un obiettivo ma non sono particolarmente cari o alla moda l'obiettivo della nostra vita è una sorta di ricchezza spirituale che ci permette di avere dio nel nostro cuore arricchisce la vita degli altri con la nostra generosità il nostro servizio se la nostra proprietà ci appartiene prima di entrare e questa ci viene lasciata al momento di entrare al convento essa non diventa automaticamente proprietà del convento possiamo donarla liberamente a chi preferiamo tutto ciò che possediamo mentre siamo suore diventa automaticamente proprietà della comunità e per esempio non possiamo ricevere dei redditi personali da tenere per noi allo stesso modo ogni cosa necessaria alle suore deve essere fornita dalla comunità e questo include cibo igiene proteine igiene vestiti accesso ai mezzi di trasporto alle informazioni e così via votarsi alla povertà prevede anche di dedicare le nostre energie al servizio della comunità avendo però anche il diritto a dei ritmi di lavoro ben equilibrati e abbastanza tempo libero per essere sempre sani a livello fisico e mentale se invece siamo disponibili a lavorare tantissime ore al giorno senza pause questo campanello di allarme se gli oggetti che ci vengono forniti per la formazione non sono sufficienti e non ci permettono di vivere in maniera dignitosa questa non è una povertà evangelica ma sfruttamento se veniamo spinti a scrivere un testamento lasciando tutte le nostre proprietà alla congregazione questo è un campanello di allarme se non c'è trasparenza nella nostra congregazione in maniera tale che solo pochi siano informati delle finanze della comunità o se ci sono segni che alcune suare vivono una vita molto più confortevole delle altre questo è un campanello di allarme e infine se la povertà viene considerata come uno strumento di dipendenza che ci porta ad elemosinare per le cose necessarie per la vita quotidiana anche questo è un campanello di allarme il voto di povertà non ci priva di tutto ciò di cui abbiamo bisogno al contrario ci permette di essere completamente disponibili per gli altri senza dover sprecare tempo prezioso energie preziose per oggetti e necessità esterne grazie a tutti bene dopo questo video iniziamo a presentare e nostre relatrici di oggi abbiamo una testimonianza da parte di anna adam cicova che è una ex suora dell'ordine delle missionari della carità in slovacchia e che ora vive in america latina lei ci racconterà della sua storia così dolorosa di abusi che ha dovuto vivere durante gli anni della vita della congregazione osserveremo allora la sua esperienza io vorrei rappresentare anche da dottoressa che è una teologa siamo molto contenti di poterla considerare nostra amica e consulente teolo teologica e vorrei anche presentarvi la dottoressa trisimo che è anche una nostra grande amica della chiesa australiana ma a questo punto come vi dicevo vorrei iniziare con la testimonianza di anna adam cicova io mi chiamo anna anna adam cicova e il mio nome religioso è la suor damiana per me uscire dalle missioni della carità è stato come un risvegliarsi e mi sono trovata in questa congregazione per circa 25 anni e la slovacchia mentre ci vivevo era un era un paese molto cattolico molto piccolo e la mia famiglia soprattutto era molto tradizionalista lo è ancora ed è molto cattolica e quindi io sono cresciuta in questa famiglia che era molto protettiva andavamo spesso in chiesa ma allo stesso tempo vivevamo nel regime comunista e il regime comunista era un vero regime comunista e quindi venivamo perseguiti per alcuni fattori e quando io ero una ragazzina era un adolescente ricordo che andavamo a messa e andavamo anche ad alcuni servizi cantati che erano segreti si svolgevano sottoterra perché c'era un controllo del regime comunista che se ci avessero trovati per esempio ad andare in chiesa non ci avrebbero permesso di andare a scuola oppure ci avrebbero allontanato dal posto di lavoro e quindi vivevamo in uno stato di paura in un certo senso era uno stato di persecuzione continua io ricordo che una volta eravamo in questi servizi cantati e c'era sentimmo un rumore dall'esterno e dovemmo rimanere in silenzio e al buio per qualche minuto perché avevamo paura che ci avrebbero trovati e quindi questa condizione è stata molto importante per me e ha portato a scegliermi la vita religiosa perché queste difficoltà nella vita del regime comunista mi hanno ispirato perché veramente abbiamo ho capito di volermi dedicare a gesù nonostante le difficoltà nel 1946 madre teresa di calcutta inizia il processo di fondazione delle missionarie della carità nel 93 anna entra nella comunità e diventa suor damiana io ho scelto questa congregazione perché mi ha attratto così tanto perché c'era un dedicarsi completo c'era anche la una grande povertà e nello stesso momento amavo il vestito religioso delle suore era bianco a me non piaceva l'abito nero e l'idea di dedicarmi alla missione che era la cosa più importante per me mi ha molto attirato e dal momento in cui sono entrata ho avuto un grande entusiasmo e l'idea di sacrificare tutto e di dedicarsi era interessante io quindi sono entrata e mi sono preparata per questa condizione ma sì le condizioni stesse hanno superato le mie aspettative sono rimasta molto colpita da tanti fattori durante la formazione in polonia sono entrata la congregazione in polonia e fin dall'inizio il giorno successivo abbiamo incominciato la vita religiosa al cento per cento e quindi ci alzavamo alle 4 del mattino durante la giornata ed è stata una grande sorpresa per me eravamo controllate dalle 4 della mattina fino alle 10 di sera non avevamo nessun tipo di spazio per noi per essere anche da noi da sole magari forse al bagno però la maestra sapeva sempre dove noi ci trovassimo cosa stessimo facendo e quindi per me questo era un fattore molto complicato non ero preparata per questo e però volevo veramente dedicarmi del tutto a dio e quindi qualunque cosa mi chiedessero io cercavo di dedicarmi e di rinunciare a tutto quello che pensavo fosse naturale per me e cercavo semplicemente di adattarmi in quel tipo di cornice perché era la cornice le missioni della carità e di formarmi in quel senso sembrava un po una formazione militare ed ero totalmente convinta a quel punto che fosse necessario comportarmi così e pensavo fosse proprio così fosse necessario che fosse così che fosse parte della formazione e e ho idealizzato talmente tanto le missionari della carità e il punto era anche il fatto che ci spiegavano di continuo che loro si sacrificavano per gesù e quindi c'era sempre un significato in queste scelte drastiche che ci chiedevano di fare qualunque sacrificio aveva un significato preciso quando sono entrata la congregazione c'era ancora questo a questa abitudine di andare a limosinare il cibo per noi e per gli altri che avevamo nella nostra casa magari per gli alcolisti e altri poveri quindi andavamo a limosinare e quando ero una postulante ci diedero un sari questo abito molto lungo che dovete imparare a indossare perché era un po scomodo io non sapevo come sistemarmelo non sapevo come camminare con questa gonna e noi andavamo ad andare noi andavamo a limosinare con queste scatole di plastica e di solito andavamo al mercato dove si vendevano delle cose che non erano propriamente all'interno di negozi ma semplicemente in uno spazio aperto e con queste scatole di plastica i negozianti ci davano quegli alimenti o gli oggetti in eccesso che non riuscivano a vendere e quello che succedeva è che tutti i giorni noi mangiavamo il pane con l'olio e queste cose che invece prendevamo dall'elemosina di solito era il prosciutto noi non mangiavamo prosciutto se non di domenica e quindi lo conservavamo per la domenica e dato che non avevamo il frigorifero il prosciutto quando lo mangiavamo già diventava verde e però noi dovevamo mangiarlo dovevamo mangiarlo perché c'era questa idea della provvedenza divina e non riuscivamo neanche a ingoiarlo e non riuscivamo neanche a mangiarlo però ricordo che di era molto difficile per me perché era già a marcio però io lo mangiavo e magari mangiavo anche il formaggio e le cose che erano già andate a male ed era molto difficile ma in qualche modo io cercavo di non vergognarmi di ciò che avevo scelto per la mia famiglia dicendo di volermi sacrificare quindi molto spesso veramente soffrivo per me stessa avevo difficoltà a camminare con questo abito soprattutto all'inizio avevo difficoltà a mangiare quello che mi veniva proposto nel 95 la salute di Anna subisce un crollo e viene ospedalizzata e le viene diagnosticata la tubercolosi molto spesso ci venivano date salsicce che non erano ben conservate e noi le inserivamo nell'acqua fredda per cercare di conservarle non avendo il frigorifero ma poi quando le andavamo a mangiare erano già acide erano andate a male tutte queste cose erano così complicate ma io volevo semplicemente mostrare alla mia famiglia che ce lo stavo facendo e volevo offrire questi sacrifici a dio quindi per la perché la mia famiglia fosse orgogliosa di me io lo facevo per gesù in qualche modo era lui a chiedermi di fare questi sacrifici tutte queste difficoltà ne valevano la pena io le accettavo e nonostante questo soffrivo in silenzio e ricordo che mi sentivo così ansiosa per tutte queste cose che non mi permettevano di essere libera che mi veniva da piangere mi veniva da piangere perché c'erano anche queste difficoltà del non poter parlare le une con le altre io mi ricordo fin dall'inizio non c'era permesso di parlare la nostra lingua non ci veniva permesso di parlare polacco per esempio dovevo parlare inglese fin dall'inizio e quindi non c'era un incontro personale con le mie consorelle e però noi dovevamo parlare delle nostre questioni personali solo con la maestra e la maestra ci incoraggiava ad essere un libro aperto nei suoi confronti ma per me condividere allo stesso livello con le mie consorelle con le mie amiche sarebbe stato più utile ma non potevo comunque condividere questioni personali e comunque non c'era tempo per farlo perché ogni minuto era dedicato a delle attività e anche quando andavamo a dedicarci all apostolato all'esterno quando non pregavamo ci veniva richiesto di pregare il rosario e quindi quando camminavamo dovevamo sgranare il rosario non dovevamo quindi concentrarci sul parlare dovevamo fare quello che ci veniva richiesto non potevamo parlare l'une con le altre e quindi all'interno delle missioni della carità c'è qualcosa di molto strano in un certo senso e tuttavia molto comune probabilmente in altre famiglie religiose ma c'è questo momento in cui si dice che il superiore può fare un errore nel dare un ordine ma non si può mai sbagliare commettere un errore nell'obbedire e quindi questa volta io arrivai alla conclusione o trovare la spiegazione mi diedi una ragione per tutte le difficoltà in quel tipo di frase e oggi io vedo e comprendo che quella frase è lo strumento migliore per manipolare le coscienze perché chiaramente se non si mette in dubbio nulla se non se non si vede il significato di quello che si fa e si allontana il significato e allora si rimane imprigionati io credo che con questa frase io veramente sono arrivata a fare tutto quello che mi chiedevano di fare e questo è diventato la scusa per tutto ciò che ho dovuto vivere ciò che abbiamo dovuto vivere le nostre sofferenze. Anna ci offre una testimonianza che non è affatto una lamentela personale riguardante il brutto periodo del trascorso della congregazione che ha scelto bensì la sua testimonianza di un fenomeno chiamato abuso di coscienza per il quale Anna non ha responsabilità alcuna le vittime di abuso di coscienza non sono colpevoli di essere vittime di abuso di coscienza nel 97 venne mandata in argentina e si è stato un momento molto felice sono stata allontanata dalla polonia sono andata in argentina ed è stato bellissimo ero piena di entusiasmo e quando sono arrivata alla casa abbiamo iniziato a vivere con anziani e alcodisti dalla dalla strada ed è stata una missione bellissima veramente lavorare con i poveri è meraviglioso e mi è piaciuto moltissimo l'unico problema era stato il fatto di dover imparare la lingua io non parlavo spagnolo all'epoca l'ho dovuto imparare e avevamo poco tempo per imparare la lingua ma soprattutto eravamo anche nell'apostolato e da quando ero una suora la mia superiore mi ha messo a capo di un gran numero di uomini io ero un aspirante ancora che lavorava con altre candidate il problema è diventato anche la lingua perché io parlavo poco spagnolo essendo responsabile dovendo gestire tante responsabilità la lingua era un limite e quindi cercavo di trovare anche qualcuno che parlasse meglio lo spagnolo e tanto da poter creare un ponte e gestire meglio l'apostolato e sì per quanto fosse comunque meraviglioso io credo che a quel punto cadi nelle mani della mia superiore che non è non si comportava molto bene con me e credevo che prendere i voti e la mia formazione e la sua rigidità fosse terminata e tuttavia arrivai a quella missione in cui non c'erano cambiamenti alla formazione credo che la situazione peggiorasse ancora perché so che la superiore a che avevo all'epoca era molto strana non voglio dirlo ma credo avesse dei problemi psichici e se le suore disobbedivano anche poco lei si arrabbiava moltissimo non riusciva a controllare l'ira e ricordo che una volta andai al refettorio in cui c'erano le suore con lei a parlare lei stava litigando con loro e alla fine prese loro l'abito e lo buttò a terra e di notte avevamo aveva paura che queste suore potessero scappare perciò ci chiuse a chiave nell'edificio era un comportamento stranissimo che non avevo mai visto e mi chiedevo sempre ma che diamine sta facendo e tornavamo alla postolato e tornavamo per andare al bagno perché perché per andare al bagno doveva mandare la nostra casa e lei non era contenta perché stava sempre lì seduta non so cosa stesse facendo e molte tornavano appunto a casa per andare al bagno e lei le sgridava e ci diceva che eravamo degli animali e io veramente mi ricordo che andavamo al bagno con il terrore perché lei stava sempre lì a chiederci cosa stessimo facendo lì e ricordo un momento in cui avevamo una grande casa una grande struttura e io andavo uscivo uscivo dal cancello e in questo cancello avevamo una piccola apertura uno spioncino che veniva utilizzato per vedere se c'era qualcuno all'esterno magari poveri e io ricordo che mi trovavo in un momento così difficile nei suoi confronti che avevo preso l'abitudine di guardare nello spioncino pensando che lei stesse lì e pensavo che sì lei fosse responsabile dei poveri di tutti noi ma poi dietro quel quel lo spioncino lei mi stava lì a guardare e volevo semplicemente nascondermi perché non mi sentivo libera e sentivo e rivolevo quella libertà io volevo uscire semplicemente con libertà e non lo sopportavo più c'era c'era questa pesantezza su di me che non non mi permetteva di di essere umana era davvero strano perché ci diceva di di dedicarci del tutto a gesù di rinunciare a tutto di rinunciare a tutto per gesù e diceva che la quantità è questo dedicarsi del tutto al cento per cento e sacrificarsi per gli altri per rifiorire e quindi credetemi io non non ero questo fiorellino che stava crescendo ero stufa di sentir parlare di fiori di fiorellini che crescevano e tutte le cose umani che volevamo condividere erano tutte spiritualizzate ed era ancora già più difficile gestire tutto quello che era legato all'essere umanamente lì con lei in più dovevamo dedicarci del tutto alla missione e oggi penso sia folle perché si entra in un circolo in cui non si può essere se stessi si viene formati e si ragiona e cambiano i desideri e si cambia anche il volere sulla base del loro perché non c'è altro pensiero non ci sono altre relazioni non c'è un altro circuito in cui si possa entrare non c'è altro di cui si possa parlare con i volontari non si può parlare senza autorizzazione con i sacerdoti si viene rinchiusi tra nel rapporto con i nostri superiori e con le consorelle che comunque si trovano nella stessa condizione in cui noi ci troviamo nel contesto cattolico l'abuso di coscienza è un tipo di abuso del potere legale o spirituale che controlla la coscienza della vittima al punto che l'abusante prendendo il posto di dio onipotente ostacola o annulla la libertà di giudizio della vittima e le impedisce così di essere sola con dio nella sua coscienza questo tipo di abuso è perpetrato da un rappresentante della chiesa che è riconosciuto dalla medesima come degno di fiducia pertanto l'abuso di coscienza ha sempre una dimensione istituzionale poi sono stata mandata in cile in cile per prima di cosa mi piaceva moltissimo il paese perché somigliava alla slovacchia con le montagne e per la prima volta stavo lavorando con i bambini che avevano problemi neurologici e questi bambini erano meravigliosi era così bello lavorare con loro è così gratificante lavorare con loro perché erano bambini abbandonati o bambini con disabilità e erano piccolini erano anche neonati ed erano così vulnerabili che era molto semplice prendersi cura di questo tipo di bambini e in quel momento successe lo scandalo del del cardinal caradima nella nostra congregazione io ero responsabile della comunità all'epoca e dopo la messa gestita da un sacerdote che si fermava spesso a colazione con noi io parlavo con lui del fatto di caradima e io gli fece le domande e lui mi iniziò a raccontare della storia di caradima perché lui aveva vissuto con lui il sacerdote mi raccontava di aver subito abusi spirituali e inizio a condividere con me le sue storie abusi spirituali e per me l'abuso spirituale non era un fatto sconosciuto io non sapevo cosa significasse un abuso spirituale o l'abuso di coscienza e dopodiché io ho iniziato a fargli le domande l'ho iniziato a condividere con me tutte le storie con caradima che ha vissuto con caradima alla fine mi disse di essere scappato da da lui aveva richiesto di essere stato spostato un'altra parrocchia e poi e poi io gli chiesti ma in cosa consistono questi problemi mi raccontava che caradima alla fine chiedeva le cose anche più piccole più intime della vita personale delle persone con cui viveva con cui aveva un rapporto di guida spirituale e diceva e questo sacerdote mi diceva che dovevano raccontargli tutto quali abiti avevamo comprato quando andavamo in vacanza quando andavamo a trovare la famiglia con cui parlavamo dovevamo e io lo guardavo e dicevo ma ma no ma è normale è un superiore e quindi dovrebbe saperlo no e lui mi disse no ma come io gli dissi ma come fa essere un abuso questo e lui mi iniziò a spiegare di questo fattore interno della della coscienza della libertà di coscienza e degli abusi di coscienza e del fatto che il superiore non può completamente rimpiazzare il ruolo di dio noi dobbiamo poter essere da soli con dio e sacerdote mi aiutò a comprendere dove identificare il limite tra l'abuso spirituale e la coscienza dove il superiore non dovrebbe entrare questo per me costituì una grande novità e inizia ad essere molto più sensibile anna ha parlato di un aspetto che mi sembra molto rilevante ossia l'idea di obbedienza un tipo di obbedienza intesa come una via per ottenere la santità annessa al posto del superiore soppiantando la voce di dio questi tre tasselli sono tremendamente dannosi si tratta infatti di una congregazione in cui non vi è un abusante con un disturbo psichiatrico come nel caso di fernando caradima in cui abbiamo un violentatore perverso una persona che intende dominare l'altra persona solo per il suo bene personale in questo caso la cosa complicata è che vi è una cultura vi è una cultura e questo significa credenze significa azioni correlate a quelle credenze ed è qui che risiede il problema e ricordo anche la storia di una suora che era con me in argentina con una superiore che era molto complicata e lei mi era molto cara e si trovava a calcata e mi raccontò una storia che è legata alla congregazione legata ad abusi di coscienza mi io a mi trovavo mi raccontò di essere responsabile di una novizia che l'era stata affidata perché aveva difficoltà con le sue maestre e sapevamo che ha preso delle medicine ma a quel punto si trovava in coma e allora è stato affidato il compo di prendersene cura io ero lì con lei e dissi alla superiore questa poverina si trova in coma io non so che medicina ha preso ho paura che che possa andarsene dobbiamo portarla all'ospedale per fare una lavanda gastrica per essere sicuri che non ci sia più medicinale perché questo medicinale potrebbe danneggiarla e potrebbe morire e la superiore generale le disse di non farlo le disse di aver fiducia in dio di rimanere con lei accompagnarla e pregare per lei e pregare che questo non accadesse di che non morisse che potesse sopravvivere e quindi non la portarono in ospedale io le dissi ma perché non la volevano portare in ospedale lei mi rispose non lo so magari perché avevano paura che potesse rappresentare un caso e volevano che la madre fosse canonizzata e questo avrebbe potuto costituire un problema io dissi ma poteva morire e lei mi disse sì infatti è questo il problema per me io non non lo sapevo io volevo rimanere lì con lei e volevo portare all'ospedale ma quella poverina poteva morire lì poteva rischiare la vita e bisognava portare all'ospedale perché altrimenti sì ci sarebbe stato uno scandalo ma era necessario un'altra cosa che è stata una bomba per me è stata una suora che morì e noi riceviamo sempre una lettera quando una consorella amore noi ricevemmo una lettera da calcata sulla sua vita su ciò che le era successo quando era morta e così via e dopo di che dopo un po di tempo riceve una notizia non dalle nostre con sorelle ma dal vescovo di calcata che ci raccontava la storia di questa con sorella e che aveva scritto alle altre con sorelle perché si era suicidata si era impiccata con insari in bagno e ancora una volta magari quando io mi sono ammalata non ho sentito così tanto dolore ma per la mia con sorella ho provato un dolore insostenibile e lei è morta così che ansia deve aver dovuto vivere per essersi impiccata con insare in bagno si è nascosta per suicidarsi perché noi non abbiamo posti nemmeno per morire è veramente lei si è suicidata in bagno di nascosto e non ci hanno raccontato la verità e noi abbiamo dovuto sapere la notizia da altre con sorelle di un'altra congregazione io quindi ho parlato con una con sorella ha detto ma com'è possibile perché non ci dite la verità perché non ci dite il significato di quello che è accaduto se non si prendono cura di noi non vogliono risolvere il problema della comunità ma perché non ci dicono la benciato mi sa ci stupidi e lei mi ha detto una mia data una risposta così sciocca io credo mi abbia detto ma perché dobbiamo dirvi la verità volete che la verità emerga anche con le altre con sorelle che facciano lo stesso mamma mia veramente io credo che questa risposta sia totalmente incompatibile con con la realtà queste suore non stanno bene non stanno bene perché una sola si è suicidata perché aveva avuto problemi e noi l'abbiamo nascosta perché non volevamo che le altre potessero imitarla ed è io stavo proprio pensando ma quante verità nascondono quante suore muoiono e non lo sappiamo quanti problemi esistono in noi non lo sappiamo quante storie dolorose avvengono e noi non ne siamo a conoscenza e fa male io credo che non dovrebbe passare così perché sì noi nascondiamo le cose perché gli altri all'esterno non le conoscano ma noi le nascondiamo anche tra di noi e quindi è un problema ancora più grande c'è un enorme abuso se non vogliamo anche tra di noi condividere queste informazioni o non ce la facevo più e quindi le dissi basta io me ne vado chiedo un anno di discernimento e veramente non ce la facevo più a sopportare queste cose come se nulla fosse successo perché questo sacerdote mi aveva reso sensibile mi aveva sensibilizzata a questi abusi la mia coscienza stava gridando in me mi diceva no non va bene non non è per dio è qualcosa che sta stiamo facendo ma che non c'entra nulla con dio e alla fine dopo tre mesi ho ricevuto una lettera che per cui potevo andarmene quindi stavo preparando le mie cose volevo andarmene per il mio discernimento e le sue ore mi continuavano a dire il suo loro va io me ne vado e lei loro mi dissero damiana damiana no no tu ti stai solo preoccupando di te sei un egoista tu ti sei stancata di dedicarti agli altri si sta allontanando dalla croce mentre invece sei stata hai promesso di rimanere fedele ti sta allontanando dai problemi e io posso dirvi che se non avessi ascoltato queste parole del sacerdote che questo era un abuso non sarei stata in grado di andarmene e io veramente avevo bisogno di qualcuno dall'esterno che mi sostenesse sapendo come funziona l'abuso e mi dicessero esattamente quello che stava succedendo il fatto che loro mi stesse riuscendo e mi stavo allontanando alla croce solo per farmi sentire in colpa io non lo sapevo ma sì io ero esattamente sulla croce non mi stavo allontanando e quindi la mia coscienza per me era qualcosa che stavo cercando di preservare non potevano portarmela via sebbene fosse difficile quella coscienza che cercavo di preservare anche nel regime comunista cercavo di proteggerla di combattere per lei contro ogni difficoltà ed era difficile anche nel regime comunista ma avevo sempre pensato di dover combattere per la libertà e quindi quando ho capito che non era quella la verità non ho capito non poter più restare non riuscivo più a guardare alle cose non poter far nulla e non riuscivo a rimanere lì perché sapevo di essere parte di qualcosa che non era giusto e quindi mi allontanai e mentre preparavo le mie cose per me lasciare quel sare quell'abito di cui ero sempre stata così orgogliosa è stato qualcosa che mi identificava era qualcosa che era stato parte di me per 25 anni e sono rimasta annientata dal togliermelo mi sembrava di togliermi la pelle e ho avuto tante difficoltà e usci senza sari e dovete andare in terapia perché non ce la facevo più mi sentivo nuda mi sentivo di aver perso identità e la cosa peggiore era che non sapevo veramente che tipo di effetto avrei potuto avere ricordo un momento era stato era molto forte mi trovavo a santiago nella metro e c'era una parte della stazione metropolitana molto profonda e io ero lì ero lì in un momento in cui c'erano tante persone che passavano avanti indietro nella metro e ero lì e a un certo punto mi sono resa conto che c'era una folla che veniva verso di me e io poi mi guardai alle spalle c'erano tantissime persone che venivano sempre verso di me ma dall'altra parte e non avevo l'abito con me e quindi prima invece con l'abito io stavo sempre rappresentando le missionari della carità ed ero nominata per questo e gli altri mi guardavano in quel senso ma allora non avevo l'abito e mi sono resa conto che nessuno mi guardava quando mi sono resa conto che nessuno mi stava guardando ho pensato che non mi vedessero e ho sentito ho pensato ma non mi vedono perché improvvisamente non non mi sentivo reale mi sembrava di essere trasparente non avere un corpo perché non avevo l'abito e questo mi ha annientato pensavo non mi vedessero e ne veniva una folla verso di me non ero abituata a prendere la metro e quindi chiusi gli occhi perché non ce la facevo avevo così tanta paura ho avuto un attacco di panico e credevo mi avrebbero schiacciato perché non mi vedevano e poi improvvisamente mi sono avvicinata al muro mi sono poggiata e toccare il muro mi ha aiutato e perché cercavo di comprendere e di realizzare che non avevo identità io non esistevo e lentamente sono rientrata in me e ricordo di aver raccontato e mi ricordo di aver ricordato che la maestra ci diceva che noi non avevamo identità senza il nostro abito ed era vero io lì non esistevo non c'era nulla per me io non avevo più nulla e non mi ero mai sentita così solo quando mi ero tolta l'abito e lì ero sola e quindi quindi veramente avevo bisogno di recuperare la mia corporeità di essere di nuovo a me non più store damiana sono uscita dalla metro sono riemersa veramente ho e ho ricominciato a riprendermi anna a riprendermela su di me ho cercato di nuovo la mia testa per essere di nuovo me e ho cercato di riprendere anche gesù quel gesù che ci dà la vita e che mi aveva dato vita e che mi ama per come sono e ho cercato anche di prendere essere felice e libera grazie a marzo del 2018 anna abbandonato le missioni della carità ora vive in cile dove segue una terapia psicologica a questo punto sta aspettando di essere dispensata dai voti a dire Il racconto di tutto Il team di Voices of Faith Ci tengo a ringraziare Anna Damcicova Per questa testimonianza Estremamente importante E personale Abbiamo avuto qualche problema tecnico Durante lo streaming del video E quindi ci scusiamo Ma credo Che sia stato un video molto potente Per tutti noi Ora vorrei presentarvi La nostra prima relatrice La dottoressa Rosio Figurea Teologa Siamo molto Lieti di poterla chiamare Una nostra amica E consulente teologica Da Lima Però Ex responsabile Della sezione delle donne Del Consiglio Pontificio Per i laici Ha pubblicato molti testi Sulla teologia L'abuso E ha accompagnato Molte sopravvissute Nel processo di recupero Dall'abuso Avvenuto nella Chiesa Raccontando Pubblicamente La sua storia Nell'evento Voices of Faith Del 2018 Ha offerto Un esempio Molto potente Su come Andare oltre Il silenzio E come parlare Dell'abuso Quindi Dottor Rosio Figurea A lei la parola Grazie Grazie Per l'invito Buongiorno Buonasera A tutti voi Dopo questa testimonianza Così toccante Mi Mi rendo conto Come Sopravvissuta Sostenitrice Ricercatrice Mi rendo conto Di quanto sia Importante Dare Il giusto nome Alle cose Specialmente Per quanto riguarda L'abuso Un momento chiave Per Anna È stato appunto Il riconoscimento Dell'abuso Nella Chiesa Cattolica E nella cultura Popolare Il termine Abuso sessuale È stato Solitamente Collegato Alla violenza Fisica O alla Violenza sessuale Come lo stupro È stato quindi Difficile Affrontare il fatto Che le Persone Che sono Abusate Sessualmente Non sono Abusate Soltanto Attraverso La violenza Fisica Ma anche Attraverso La violenza Psicologica E spirituale E abbiamo Abbiamo lo stesso Problema Quando parliamo Di abuso Spirituale Molti Non ne parlano In realtà Nel caso di Anna Non conosceva La parola Molti ritengono Che se parliamo Di abuso Spirituale Stiamo esagerando Chiamandolo abuso Per molti Per molti La parola Abuso Spirituale È troppo Forte Vi darò Un esempio Ho caricato Questo post Su facebook Perché ho pensato Che fosse Illustrativo Della situazione Delle donne In alto Avete L'Assemblea Sui diritti Delle donne Che si è tenuta In Arabia Saudita Quindi uomini Che decidono Sui diritti Delle donne In basso Sinodo Sulla famiglia Quindi Cardinali Che parlano Dei diritti Delle donne E cosa hanno In comune Entrambi i gruppi Violano i diritti Delle donne Non permettendo Loro di partecipare Al processo Decisionale Delle loro comunità La cosa Interessante È la risposta Che ho ricevuto Su facebook Due uomini cattolici Uno italiano Uno dal Perù Hanno commentato Il post Uno mi ha detto Non puoi comparare Queste due realtà Lo dovresti sapere E l'altro Mi ha detto Con questa logica Gesù Che era un uomo Non avrebbe avuto L'autorità Di parlare Delle donne Pensate davvero Che queste due realtà Possano essere confrontate Secondo me È stato un momento Diciamo Di illuminazione È affascinante Vedere come Questi uomini cattolici Non riescano A vedere il confronto I musulmani Usano la violenza Contro le donne Ma pensano Che questo Non accada Nella chiesa cattolica Inoltre Il primo uomo Pensava Che io dovessi Saperlo Cioè Secondo lui Io avevo Un problema Di interpretazione E mancanza Di conoscenza E anche Il secondo uomo Ha paragonato I vescovi Con l'autorità Di Gesù Quindi in questo caso Ho due commenti In primis Credo che Il problema Sia nel modo In cui definiamo Intendiamo La violenza Nella cultura popolare Il termine violenza È solitamente Legato A un atto Di forza Se intendiamo La violenza In questo modo Ristretto Solo come Un atto Di forza Sarebbe molto Difficile Comprendere Il significato Della violenza Spirituale O dell'uso Spirituale Perché non è Un atto Di forza Ma è stato Molto facile Per i miei Contatti su Facebook Vedere la violenza Fisica contro Le donne Nell'Islam Ma non sono Stati in grado Di vedere La violenza Silenziosa Che avviene Nella Chiesa Cattolica Quindi dobbiamo Capire Comprendere La violenza In un modo Più ampio Neudel Garver Che definisce In questo senso Afferma Che non si tratta Solo dell'uso Della forza Ma che si definisce Anche in termini Del verbo Violare Afferma Che esistono Due tipi Di diritti Che possono essere Violati Il nostro diritto Al nostro corpo E la nostra dignità Come persona E naturalmente Il problema È che Mentre la violenza Fisica Può essere vista L'abuso spirituale O la violenza Spirituale Non è così Chiaro A vista E può Raffrontato Il secondo problema È che Finora Chi ha interpretato Il Vangelo I valori E le esperienze Della nostra fede Come cattolici In modo ufficiale Sono sempre stati uomini Siamo state Ermeneuticamente Marginalizzate E per questo Si parla di Ingiustizia Ermeneutica Siamo vittime Di una violenza Formale Quando guardo Queste foto Mi Identifico Come una Vittima Di Violenza Ermeneutica Io Come partecipante Nella Chiesa Cattolica Non ho voce In questa Interpretazione Come donna Non sono Inclusa In questo processo Decisionale Come mi hanno detto I uomini su Facebook Dovrei saperlo Quindi la mia esperienza Come mi sento Non è sufficiente Perché dovrei Saperlo No? Ora vi faccio Un esempio Più ampio Di ingiustizia La violenza La violenza sessuale È stata interpretata Dagli uomini In vari modi Moleste sessuali È un flirt Lo stupro nel matrimonio Non è uno stupro La depressione postpartum Isteria L'abuso spirituale Un'esagerazione Cerchiamo quindi di definire L'abuso spirituale Vi offro questa definizione Che è stata data Dalla dottoressa Lisa Oakley È una forma di abuso emotivo E psicologico Caratterizzato da un modello Sistematico Di comportamento Coercitivo Di controllo In un contesto religioso Può Includere La manipolazione Lo sfruttamento Accountability Forzata Censura Del processo decisionale Richieste di segretezza E di silenzio Coercizioni A conformarsi Controllo Attraverso L'uso di testi sacri O insegnamenti Come diceva Anna Il sacrificio Richiesta di obbedienza All'abusatore Suggerimento Che l'abusatore Abbia una posizione divina Isolamento Come mezzo di punizione Superiorità E delitarismo L'elemento chiave Di questo abuso È l'utilizzo Del potere spirituale E poiché il leader Rappresenta Dio Può avere Un profondo impatto Sulla fede religiosa Delle vittime La definizione di Oakley Mette in evidenza Il fatto che si tratti Di una forma Di abuso emotivo E psicologico Ma è molto interessante Perché in una conferenza Che ha tenuto Qualche tempo fa All'università Di Chester Ha detto Che è importante Considerare Anche la prospettiva Anche la prospettiva teologica Non si tratta Di un abuso emotivo E psicologico Questa è soltanto Una parte Ma l'abuso spirituale Ha le sue caratteristiche Abuso di potere spirituale E nonostante questa definizione Metta in evidenza L'autorità L'agenzia Del perpetratore Doris Reisinger Definisce L'abuso spirituale Dalla prospettiva Di chi subisce L'abuso Secondo lei L'abuso spirituale È una violazione Della libertà spirituale Di una persona Perché se un atto Di fede Non ha origine Dalla libera volontà Di una persona Ma semplicemente Dalla sua mancanza Di alternative O peggio Dalla manipolazione Dalla coercizione O dalla violenza Non è chiaramente Un atto di fede Io collegherei Le due definizioni Quella di Oakley E quella di Reisinger E vorrei quindi Definire L'abuso spirituale Come la violazione Della libertà spirituale Di una persona Da parte di un leader Che abusa Del suo potere religioso Nelle nostre Comunità religiose Abbiamo visto Che molte donne Religiose Subiscono Abusi spirituali E questa tematica Non è mai stata affrontata Attualmente Sto lavorando Con David Toomes Ad una ricerca qualitativa Che coinvolge Ex suore Vittime di abusi Spirituali Della comunità Peruviana Servas del Plan de Dios Serve del Piano de Dio Si tratta Di una comunità Di suore Fondata nel 98 Da Figari Lo stesso fondatore Del Sodalizio Che oggi è accusato Di abusi sessuali Di potere Abusi psicologici Contro membri Della sua comunità Quindi possiamo vedere La mano di Figari In tutte le sue fondazioni Questo scandalo È esploso Nel 2012 E purtroppo Con questa congregazione Ho scoperto Ho scoperto Che la cultura D'abuso abusiva Di Figari Ancora prospera lì Quindi per capire Che cos'è L'abuso spirituale Vi darò soltanto Qualche esempio Delle testimonianze Ad esempio Come quelle di Anna Quindi testimonianze Di Ex suore Di questa Congregazione Peruviana Questo articolo È stato pubblicato A novembre Quindi ad esempio Rose afferma Che l'abuso spirituale È stato violento Non potevo lamentarmi Di nessuna sofferenza Una domanda Dell'esame di coscienza Era Ho mostrato La mia stanchezza Agli altri Ci dicevano sempre Che anche se eravamo Stanche Non dovevamo Non dovevamo mostrarlo Esprimerlo Se le suore Mi vedevano Con una faccia scontrosa Non mi hanno mai permesso Di esprimere Le mie emozioni Mostrare Che ero stanca Era un peccato Come possiamo vedere Come ha detto poi Anche Anna Nel Rossana Nel 2006 Dice Ho subito un incidente Per aver obbedito Un ordine assurdo Del mio superiore Non potevo scendere Alcune scale Ho dovuto scenderne Altre che erano Troppo buie Ma Mi era stato detto Che dovevo superare La mia paura Scesi le scale E mi fratturai La tibia Il perone Quello è stato Il primo Di 15 interventi chirurgici Che ho subito In comunità Quando mi chiesero Come ero caduta Dissi che Mi avevano costretto A scendere Quelle scale E il superiore La superiore Mi ha corretto E mi ha fatto scrivere Cento volte Che chi obbedisce Non sbaglia mai Mi disse Che non potevo Mettere in dubbio Questo aspetto Che Dio Mi ha permesso Quell'incidente Alejandra dichiara Ero la cameriera Della superiore Dovevo raccogliere La sua biancheria E lavarla La lavava un mano Perché lei Mi chiedeva Di strofinare Le portava il cibo In camera Cibo buono Che noi non mangiavamo mai Mi faceva fare I suoi compiti All'università Non le importava Dell'imbroglio E metteva il suo nome Sul mio lavoro A partire da questi esempi Possiamo vedere Come l'obbedienza religiosa È stata intesa Come l'aspettativa Che uno non solo Seguisse gli ordini Di una superiore Ma che si abbandonasse Completamente Abbandonasse completamente La propria volontà Intelletto Al superiore Tuttavia Questo concetto È rimasto Lo standard Della vita religiosa In Perfette Caritatis Concilio Vaticano II Si afferma Nel professare L'obbedienza I religiosi Offrono Il pieno abbandono Della propria volontà Come sacrificio Di se stessi a Dio Si sottomettono Con fede Ai loro superiori Che tengono Il posto di Dio In un ambiente religioso L'obbligo Di obbiedire All'autorità Senza fare domande È strettamente Associato All'abuso spirituale Ma le donne Come le donne Abusano Hanno abusato Di altre donne Questo abuso Può essere Intenzionale Se un leader Abusa Del potere Nel nome di Gesù E talvolta È qualcosa Che è tramandato Da un leader All'altro Ad esempio Nel caso Della congregazione Peruviana È stato tramandato Dal fondatore Alle superiori Secondo Weir In alcune circostanze L'abuso spirituale Si verifica Quando la tradizione È coinvolta I regolamenti Non vengono messi In discussione Queste distinzioni Tra abusi Intenzionali E non intenzionali Rendono ancora più difficile Delineare E affrontare Il problema Ad esempio Questa definizione Di obbedienza Di abbandonare Il proprio intelletto La propria volontà Ne abbiamo sempre sentito parlare Ma sì È passata È passata Attraverso le generazioni E può costituire Una violenza spirituale Strutturata Secondo me La tradizione Della vita religiosa Sull'obbedienza È una violenza spirituale Strutturata Se la nostra tradizione Afferma Che dobbiamo obbedire Alle superiori Perché rappresentano Dio Abbiamo Un'equazione Problematica Per questo Dobbiamo ridefinire L'obbedienza Perché i superiori Sono umani Non rappresentano Dio Questo tipo di Abuso spirituale È quello che abbiamo Menzionato prima Come ingiustizia Ermeneutica È un qualcosa Di meno visibile È una violenza silenziosa Perché chi la subisce Possiede un Un bias formativo Intrinseco Che gli rende impossibile Riconoscere il proprio abuso Quindi perché queste suore Hanno permesso che accadesse Poiché non potevano vedere La piena realtà Della loro esperienza Perché erano vittime Di violenza ermeneutica Secondo la tradizione Erano convinte Che stessero obbediendo a Dio Che fosse un sacrificio Perché interpretavano L'abuso Come un atto Di obbedienza A Dio stesso Quindi il Vaticano Che cosa ha fatto A riguardo Questi abusi Ha risposto Alla situazione Di questa Congregazione È stata inviata Una lettera Il 25 ottobre Del 2021 Per il bene Di tutti Per il bene Della Chiesa Le stesse autorità Hanno chiesto Di agire Di correggere Gli aspetti incorretti Che sono stati trovati Nel governo Nella formazione Nella verifica Di possibili atti Di abuso di potere Di violenza psicologica A manipolazione Della coscienza Quindi semplicemente Hanno detto loro Correggete questi comportamenti Questa è la risposta giusta? Una risposta così debole È come dire Ok Ne parliamo Ci parliamo con loro Ma se si parla Di un problema sistemico Non è qualcosa di visibile Perché fanno parte Nel sistema Quindi è una risposta Molto debole Non c'è stato un processo Non ci sono dei Regolamenti Non c'è stata una commissione Che ha investigato Questi abusi Quindi credo Che si debba fare Molto di più Mentre gli studi Sull'abuso spirituale Sono stati sviluppati In altre chiese Poco è stato ancora fatto Nel contesto cattolico Come è possibile Che la congregazione Per la vita religiosa Che include Così tanti religiosi Ed è guidata Da uomini Come è possibile Che non abbiano Il potere Di decidere Su tematiche Di questo tipo Ho lavorato Nel Vaticano La sottosegretaria Deve obbedire Ai Ai cardinali Quindi le cose Devono cambiare I partecipanti Alla mia ricerca Hanno fatto luce Su come questi fattori Abbiano contribuito Al loro abuso Se questi elementi Non vengono Discussi Affrontati Non sarà possibile Risolvere Il problema Alla radice Grazie molte Grazie Grazie Dottoressa Rosia Figaroa Grazie anche Per la Continua collaborazione Grazie per il costante Supporto A voice Of faith Come ho detto All'inizio Della Nostra conversazione Prima del video Il suo supporto La sua collaborazione È indispensabile Quindi veramente Grazie Grazie per il suo supporto Ora Diamo il benvenuto Alla prossima Relatrice Tracy McEwen Una carissima Amica Vicepresidente Stessa Membro molto attivo Del castico A winnettio Tracy Ha un master In teologia Scienze applicate Alla sua laurea Triennale E attualmente Sta svolgendo Un dottorato All'università Di newcastle La sua ricerca Si concentrerà Sull'identità Cattolica In particolare Sulla situazione In Australia La dottoressa Le diamo La parola Buongiorno Grazie Per essere qui Con voi Buonasera Buongiorno Se siete in Europa O da altre parti Del mondo Vorrei Iniziare Riconoscendo I traditional Custodians Of the land Da cui ci Qui Da cui Appunto Riconosciamo Il popolo Tyrol Estendiamo Il nostro saluto Anche alle popolazioni Indigene Che sono qui E riconosciamo Che questa Terra È stata E sarà sempre Aborigena Quindi Oggi Di che cosa Parlerò Parlerò Della ricerca Che fa parte Del mio Lavoro Durante Le interviste Che sono state Condotte Durante la mia Ricerca Sulla generazione X E la Chiesa Cattolica In Italia Molto spesso È emerso Il dolore La sofferenza Quotidiana Nel negoziare Quella che è la loro Identità Soprattutto Nella mancanza Di uguaglianza Nella Chiesa Cattolica In particolare È stato raccontato Della sofferenza Spirituale Che è passata Sotto silenzio E hanno parlato Anche degli effetti Relativi Alle prassi E insegnamenti Cattolici Paradigmi Di genere Di sessualità Oggi Mi concentrerò Su alcuni Di questi Incontri E li tratterò Come forme Di spirito Di abuso Spirituale Si tratta Di un qualcosa Che è tipico Del contesto Cattolico Normalizzato Come ordinario Come parte Ordinario Parto Ordinario E della vita Della vita Delle donne Cattoliche Nella letteratura Sociologica Si parla Della appunto Religione Quotidiana Che viene Espressa Nella vita Quotidiana Attraverso Le pratiche Quotidiane Rituali Incontri Quello che Sperimentiamo Nella vita Quotidiana Come religione Come prassi Religiosa Quindi La religione Si descrive Attraverso Pratiche Rituali E incontri Quotidiani Include Come il Corpo Materiale Incontra L'ambito Spirituale Quello Religioso Non soltanto Appunto Nelle pratiche Ma proprio Nelle pratiche Ed esperienze Quotidiane Durante le interviste Abbiamo Ci siamo concentrati Sulla generazione X Come vivono Il cattolicesimo Hanno raccontato Storie Di pratiche Rituali Prassi Costruite Nell'intersezione Di elementi Discorsivi Molto complessi Proprio Della vita Religiosa E secolare Non si tratta Di qualcosa Che non ci aspettavamo La generazione X E la generazione Nata tra il 65 E l'80 Ovvero La generazione Che ha ricevuto Una formazione Successivamente Al secondo Consiglio Vaticano E quindi È cresciuta In una chiesa Cattolica Che non aveva Quell'ideologia Potente Che ha caratterizzato Le generazioni Precedenti Quindi Hanno sicuramente Beneficiato Di un Un aumento Dei diritti Delle donne Quindi Questo ha avuto Un impatto Sulla loro Esperienza Di cattolicesimo Quindi Il cattolicesimo Si continua Appunto A proporre Lo stesso modello Di donne Ci sono Le stesse Aspettative A livello Di magistrale Della chiesa Nei documenti Nel diritto Canonico Le donne Appunto Cattoliche Vivono Una mancanza Di Uguaglianza E vi è Una compressione Molto specifica Di genere Che Legittima Una struttura Patriarcale Le strutture Patriarcali E questo Ha un impatto Profondo Sull'esperienza Religiosa Delle donne Cattoliche Abbiamo ascoltato La testimonianza Potente Di Anna E abbiamo Visto Come È stato Definito L'abuso Spirituale Le donne Cattoliche Fanno Questa esperienza Di abuso Spirituale Quando sono Costrette Ad essere Appunto Comprese In termini Di genere Di sessualità In termini Di merito O Inferiorità In questi Termini Tuttavia Come è accaduto Con le donne Con cui ha parlato Non descrivevano La loro esperienza In questi termini Specifici Tuttavia Come ha detto Anna L'abuso Spirituale Di solito Porta a un processo Di difficoltà In cui Ci si trova Ad affrontare Problemi Di natura Spirituale Anche se Molto spesso Non c'è Il termine Abuso Spirituale Nelle storie Che ho sentito Ma di fatto Quello che viene Raccontato È questo Proprio Nel contesto Cattolico Ora Vorrei Presentarvi Alcune Delle partecipanti Al mio studio Vivono tutte In Australia E appartengono Alla generazione X E si identificavano Come cattoliche Così Così Ho lavorato Con la commissione Appunto Etica Dell'Università Di Newcastle Quindi con il nostro Protocollo Ho cambiato Appunto I nomi Delle partecipanti Per proteggere La loro identità Partiamo da Monica È cresciuta In una famiglia Molto cattolica Quindi partecipava Alla messa E andava al catechismo E mi ha raccontato La sua storia Mi dice Ho deciso Che È stata Un'esperienza Molto strana Ma poi Ho avuto Un problema Perché Il mio marito Ha avuto Una disattomia Quindi Ho dovuto Ricorrere All'IDF Questo è un altro Problema Nella chiesa Cattolica E credo Che lì È iniziato Il mio senso Di colpa Perché ha detto Se lo porta avanti Di questa esperienza Andrò contro i principi Della chiesa Un altro membro Appunto Della famiglia Le ha detto Che stavano utilizzando Delle tecniche Per appunto Per avere un bambino E le era stato detto Che andrà all'inferno Per questo Alla fine Monica Ha deciso Di andare avanti Comunque Con l'IDF Purtroppo I trattamenti Di fertilità Che ha A cui si è sottoposto Non hanno portato A nessun Risultato E questo Ha fatto sì Che lei Si sentisse Abbandonata Da Dio Quindi sono andata A messa Per guarire Ero molto Depressa Perché i trattamenti Di fertilità Non avevano portato A dei risultati Ero lì Che piangevo Stavo parlando Con Dio E gli chiedevo Perché non mi dai Un bambino E credo E credo Che in quel momento Ho fatto un patto Con Dio E ho detto Se mi dai dei bambini Li educherò Nella fede cattolica Ma anche Un accordo con Dio Non era stato poi Così semplice Monica racconta Provavo Del risentimento E mi dicevo Non funzionano Questi trattamenti Perché sono trattamenti Che vanno contro Dio Dio non vuole Che io lo faccia E l'ho fatto In uno spazio Di punizione Di senso Di colpa E poi Effettivamente Sono rimasta incinta È stata un'esperienza Molto intensa Nell'intervista Le ho chiesto Se questo è stato Un momento di conversione E lei ha detto Che ancora Rimane appunto Incerta Confusa Mi ha detto Non sento Di amare Dio Perché non mi è mai Stato Spiegato in questi termini Di amore di Dio Ho sempre difficoltà Con questo Ti penso spesso Monica quindi Ha scelto di continuare Con il cattolicesimo E mi ha detto Quando vado a messa Alle preghiere Che sono Che prego Si concentrano su Aiutami a capire Perché Perché ho fatto Questo accordo Aiutami a capire Nella sua narrativa Monica dice Che ha avuto Sempre difficoltà Nel cercare Di capire Come il cattolicesimo Fosse legato A diritti Di riproduzione Della donna E lei ha mostrato E lei ha mostrato Dei segni Chiari Di difficoltà Spirituale Ha combattuto Ha cercato Di capire Come la provvedenza Divinia Si manifestasse Nella sua vita Ha avuto difficoltà Di conciliare Le sue credenze Con i trattamenti Quindi ha mostrato Appunto Dubbio Su come Gli insegnamenti Del cattolicesimo Potessero inserirsi Nella sua vita quotidiana Ci sono tantissimi Altre partecipanti Che hanno appunto Mostrato storie Di analoghe Di difficoltà spirituale Nella narrativa Cattolica Per alcune Così come Monica La difficoltà Era legata Al Magisterio Della Chiesa Relativamente Di diritti Di riproduzione Di sessualità Per altre La difficoltà spirituale Era legata Piuttosto Al ruolo Limitato Nella Chiesa Delle donne Lili afferma Vedere La natura Della Chiesa Cattolica Ora mi sopraffa Vedere Quanto sia limitato Il ruolo Del potere Dell'influenza Sento che La Chiesa È come se Non esistesse Per le donne Difficoltà A trovare Una parrocchia In cui L'insegnamento Teologico Abbia il valore Giusto Questo è Un problema Veramente evidente Nel trattamento Delle donne Perché non hanno Idea È come se Non avessi nulla Da dire Il riguardo Dice un'altra partecipante Grace Parla del momento In cui si è Resa conto Del fatto che Non poteva essere Ordinata Perché era una donna Dice Ho parlato Con il sacerdote Alla fine della messa E gli ho detto Posso diventare un diacono Posso farlo Io come donna E lui mi ha detto No No Non è consentito È stato Come Se Fosse stata Chiusa una porta In faccia E la cosa Mi ha molto ferito Quindi Nonostante Appunto Una chiamata forte Sapere che Questo non le fosse Consentito Afferma Preghiamo sempre Per la vocazione Dei sacerdoti Durante la messa Domenicale E Io mi chiedo Siamo per l'occhio Donne E io mi chiedo Di quale vocazione Stiamo parlando Volevo urlare loro E dire Non lo vedete Ruby È stata vittima Di bullismo Perché Era un insegnante In una Scuola cattolica E racconta Che Quando ha iniziato A lavorare Con questa Scuola C'erano insegnanti Uomini E dovevo sempre Chiedere All Quando ho incontrato Il mio marito Ho dovuto aspettare Per poi Sposarlo Perché C'era Il Perché c'era Il Il Dirigente Della scuola Che passava Lì davanti Casa mia Per vedere Se ci fossi Così come Monica Bernadette Prudence Ruby Lily C'è tutta una serie Di partecipanti Al mio studio Che ha articolato Chiaramente La sofferenza Il dolore Che hanno sperimentato Nell'affrontare L'insegnamento Della chiesa cattolica Sulla sessualità Sul genere Ma in generale Quello che è L'incarnazione Quotidiana Degli Intendimenti Cattolici Nella vita Cattolica Quindi come ho detto Prima Nessun partecipante Al mio studio Ha parlato Chiaramente Di abuso Spirituale In un'istituzione Patriarcale Come la chiesa Cattolica In cui L'uomo È Colui che Definisce La norma Le donne Vengono Ignorate È difficile Per le donne Riconoscere Dalle norme giuste Le loro esperienze Carol Afferma Che quando Le storie Delle donne Non sono raccontate Piuttosto che Riconoscere Le loro esperienze Piuttosto che Definire I loro sentimenti E dare Fazio Alla loro Interpretazione Delle donne Questo non è il caso Non avviene quasi mai Quando le storie Delle donne Non validano Quello che la donna Prova O pensa La donna È confusa Magari si chiede I miei sentimenti Sono sbagliati Magari Nega se stessa Quello che sta sentendo Audrey Lorde scrive Che il razzismo E il sessismo Sono parole Che utilizzano Gli adulti Che vuol dire Che i gruppi Marginalizzati Così come Quelli delle donne Soffron di abuso Ancora prima Di trovare le parole Per descrivere Questa esperienza Le esperienze Delle donne Veramente sottolineano L'importanza Di identificare Dare Il nome giusto A esperienze Di abuso spirituale Quando questo abuso Non è riconosciuto Questo avrà Una rilevanza Maggiore Sulle donne Che lo sperimentano Perché la loro esperienza Non verrà riconosciuta Io parlo di abuso spirituale Che si verifica Nella vita quotidiana Nella vita Ordinaria E che molto spesso Porta a una difficoltà Psicologica Parlo dell'abuso spirituale Che si verifica Tutti i giorni Dare il nome giusto È importante Come dice Elisa Oakley L'abuso spirituale Può avere Un impatto negativo Su chi Lo soffre Amico afferma Che utilizzare Le parole Giuste Può portarci Ad una maggiore Comprensione Dell'esperienza Che abbiamo vissuto Quindi dare Il nome giusto Al problema Può fare La differenza Prima non si riusciva Bene Prima di dare Il nome giusto Non si riesce A capire L'esperienza L'utilizzo Delle parole giuste Ci permette Di riflettere Su quello Che è stato Il nostro passato E metabolizzarlo Quando la difficoltà Spirituale Si verifica Come parte Quotidiana Ordinaria Del cattelicesimo Molto spesso Questa difficoltà Spirituale Non viene riconosciuta Non viene data L'importanza giusta Riconoscere Dare il nome giusto All'abuso spirituale Ordinario Crea l'opportunità Per iniziare Un processo Di trasformazione Di cura Grazie 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 per il suo supporto Per aver accettato Il nostro invito A partecipare All'evento di oggi Vedo che c'è un po' di movimento Nella chat Quindi ora aspetta a voi Susanne La mia collega Ci aiuterà a raccogliere le domande Quindi se ci sono domande Per le relatrici Potete utilizzare La chat E scrivere La domanda In una delle quattro lingue Una nota pratica Nel momento in cui Per favore Dite la domanda Fateci sapere Per chi è la domanda Susanna Grazie Grazie alle nostre relatrici Grazie a Rosio Grazie a Tracy Per la vostra analisi Così lucida E devo dire Che anche se Sapevo di quello Di cui stavamo parlando È stato veramente devastante Ascoltare La vostra testimonianza La testimonianza di Anna Ora Vorrei riprendere Quello che ha detto Tracy Alla fine Cioè la normalizzazione Dell'abuso Che molto spesso Non lo vediamo E credo che sia Molto importante Vedere chiaramente Quello che accade Alle sorelle Alle sorelle religiose Quello che abbiamo Ascoltato Nella testimonianza Di Anna Di fatto Fa parte Della nostra vita Di tutte le donne cattoliche Quindi ho una domanda Per Rosio E Tracy È un qualcosa È un qualcosa di strutturato Che fa parte Della prassi Della teoria strutturale Della chiesa Come ci ha detto Rosio Quindi tutte queste Virtù che abbiamo imparato Fin dal battesimo Il sacrificio Abbandonarsi Al servizio L'obbedienza Dove si inseriscono Sono Ci sono delle versioni sane Di queste virtù Voglio dire Si possono vivere Queste virtù In modo libero In un modo degno Oppure semplicemente no Credo che Quello che accade È che queste Virtù Sono state analizzate In modo Di redenzione Nel senso Se continuiamo A sacrificarci A questo tipo di Logica Se continuiamo Ad essere Obedienti Così facendo Saremo più vicini A Dio Quindi L'idea Che In questo senso È scioccante Vedere Come Abbiamo visto Ad esempio Nella storia Di Anna Vedere Come Sia stato Appunto L'impatto Come Poteva Appunto Essere salvata Dall'obbedienza Dal sacrificio Sì Credo che Siamo ridefinendo Un po' Le cose Perché L'autorità È necessaria Non è qualcosa Che possiamo Eliminare Completamente Dobbiamo Ridefinire Però Perché La superiore Il superiore Non rappresenta Dio Ovviamente La comunità Ha bisogno Di un'autorità Ma quando Si lavora In un ufficio Sì Si ha un capo Si obbedisce Al capo Ma perché Lo si fa Perché È l'autorità Di quella comunità Specifica E questo va bene Per la struttura Ma non perché Rappresenta Dio Quindi Credo che Dobbiamo Desacralizzare L'obbedienza L'abbiamo Sacralizzata In un certo senso No Non è rappresentante Di Dio Il superiore È soltanto Una funzione Di organizzazione Della comunità Quindi Non si deve Soggiacere Non si deve Abbandonare La propria Volontà La propria Il proprio Intelletto Quindi Si deve Ridefinire In modo Più profondo Alle radici Dobbiamo Ridefinire Il tutto Anche per quanto Riguarda La spiritualità Questi termini Sono stati Manipolati E utilizzati In maniera Erronea E Per questo Motivo Bisogna Riconsiderare Anche L'interpretazione Del Vangelo Dio ci ha detto Dovete Amare Amare Gli altri Così come Amate Me Mentre invece Questo tipo Di amore Viene Così annullato E credo sia necessario Ricordare Lo squilibrio All'interno Dell'interpretazione Del Vangelo E dare voce All'interpretazione Delle donne Perché non sia possibile Che sia prevalente Una sola interpretazione Una voce Che qui nella chat Ci suggerisce Un'idea Dell'interpretazione Della figura spirituale Del padre E della madre Come considerate Questo rapporto Il fatto Che di solito Si entra Nello sviluppo Spirituale In una comunità Si tende Ad avere Questo direttore Spirituale Questa guida Spirituale Comunque qualcuno Che ci indirizzi Nella nostra crescita Anche questa figura Deve essere Ridefinita In maniera Più chiara All'interno Del concetto Di guida spirituale Ma io Credo Che Dobbiamo continuare A dare una buona Definizione Dell'obbedienza Abbiamo il padre Padre famiglia Smater Così via E tutti gli altri A scalare Che danno obbedienza Noi siamo i figli No Noi non siamo i figli Dobbiamo ridefinire Anche cos'è Guida spirituale Noi non diamo Obedienza Al nostro direttore Spirituale Una persona Da cui riceviamo Consigli Possiamo dire No Io non sono d'accordo Non credo Questa sia la soluzione Adatta per me Quindi sì Io credo Che tutti questi termini Come padre spirituale Un madre spirituale Siano molto paternalistici Invece noi siamo persone adulte Persone che Hanno diritto A consulenza A consigli Ma non più di questo Quindi sì Dobbiamo assolutamente Riconsiderare Un'interpretazione corretta Io credo che In un certo senso Dobbiamo anche pensare A come definire Che tipo di relazioni Instauriamo Anche con Cristo E come lo facciamo Spesso E quanto questa relazione Sia votata al sacrificio Perché sì Esiste la sofferenza È il sacrificarsi Nel Vangelo Ma c'è anche il diritto A fiorire A crescere Nell'abbondanza In armonia In armonia Con il nostro prossimo Con il Signore E quindi Io credo Che dovremmo Veramente pensare Con attenzione Quale sia Il significato Da estrarre Dalle Dalle scritture E come applicarlo Al meglio C'è una domanda Qui per Tessi Soprattutto Nella chat Una domanda Per una migliore definizione In un certo senso Comunque per definire I confini Quando le ambiguità O le questioni Esistenziali Che tutti viviamo Vengono a definirsi Come violenza O abuso Per quanto mi riguarda Io definirei Principalmente Il termine Lotta spirituale Quando viviamo Un trauma spirituale Un trauma esistenziale Inizia un processo Di cura Di lotta E la persona Realizza Innanzitutto Che esista un problema Nel suo rapporto Con Dio Con il Divino Oltre chiaramente A delle difficoltà Interpersonali Gensioni Con la famiglia O questioni Già esistenti E C'è anche una Dissidenza interna Tra le questioni Con i conflitti Magari Con la dottrina C'è a volte Anche un'incertezza E sentimenti E pensieri Di contrasto Che rientrano Tutti Nella storia Personale E in una Vita spirituale Che dovrebbe Andare Oltre In cui a volte Non si riesce A capire Se i problemi Siano reali Oppure no E c'è una grande Contradizione Alla base Noi abbiamo Ascoltato Le stesse cose Anche nella storia Di Monica Quando Ha parlato Delle sue difficoltà Del non sapere Chi fosse Nel suo volere Figlia Direi Io non capisco Se Dio Mi stia punendo In qualche modo Oppure no E quindi Credo che Quando questa lotta Diventa così Reale Allora si può Veramente parlare Di abuso spirituale Grazie Abbiamo anche Una domanda Per Rocio La vita religiosa Così come Io l'ho Vissuta Sto cercando La domanda In chat Soprattutto Nelle prime Fasi Della formazione Richiede Una separazione Chiara Dalla vita Precedente E questo Chiaramente Può andare A compromettere L'identità Il senso Di personalità E per ricostruirlo Intorno al carisma Della congregazione Questo processo È necessario O esistono Altre strategie Possibili Per formare La vita religiosa Esistono In concreto Sì Sono d'accordo Io Credo che No Non si possa Separare Separarci Dal passato Non lo possiamo Fare perché Il nostro passato Ci appartiene E il nostro passato È noi E io Credo Che una buona Formazione Includa Il passato Curi Il passato E guardi Al futuro Non nega Il passato Non deve farlo Io Credo Che uno Dei campanelli Di allarme Dal nostro video Sia anche Essere Magari In una congregazione In cui Ci viene richiesto Di dimenticare Il passato La nostra vita Precedente Di spezzare I legami Con le nostre famiglie Con i nostri amici E credo sia Profondamente malato Come approccio E non va bene Non va bene Per noi Ovviamente Ciascuno Ha una nuova realtà Una nuova vita Come è normale E questo Va preservato Ma non bisogna Chiudere Con il passato Nell'abbracciare Questa nuova vita Bisogna entrare Invece In un processo Di maturazione E se Conosco Gruppi Strategie sane Sì Credo Ne esistano Io Ho incontrato Varie comunità Che veramente Sono molto mature Per esempio Qui Ci sono Delle mie Amiche Che hanno Un grande senso Di comunità Formano Le novizie Come persone Mature Hanno un buon rapporto Con il superiore Che incoraggiano L'indipendenza Tutto è molto maturo E così È perché La relazione È tra adulti Non tra bambini E questo accade A volte Perché invece Il noviziato Vede le novizie Come bambine Invece non è così Invece bisogna considerare La maturità Dell'individuo Ma sì Credo Esistano comunque Delle esperienze Positive So Anche di esperienze Simili Delle benedettine In Australia Che hanno cercato Di stabilire Dei rapporti Di autorità Come tra amici Tra pari All'interno La loro comunità Quindi sì Credo ci siano Dei gruppi Che stanno cercando Di migliorare Assolutamente Non ne conosco Tanti in verità Però Esistono Temo che dovremmo Chiudere però La parte delle domande Perché stiamo terminando Il tempo E Però Dovremmo Dovremmo anche dare Un po' di tempo Ai nostri Interpreti E vorrei ringraziare Tutti quanti Per la partecipazione Per i vostri commenti Che troviamo Nella chat Vediamo non solo domande Ma anche dei commenti Estremamente pregnanti E molti dicono Che Questa Conversazione Sia stata di grande Apertura Ma anche di un certo dolore Grazie Rosio Grazie Tresi Speriamo di riuscire Ad aprire gli occhi In maniera ancora più Chiara E credo che La cosa Più importante Da fare Per iniziare Sia dare il giusto nome Alle cose Come avete detto anche voi Per iniziare Un cammino di ricostruzione Vorrei solo dire Ecco qui c'è un commento Da parte di Dolores Reisinger Che è con noi oggi Come pubblico Secondo cui abbiamo Dimenticato La nostra Cultura evangelica Che non è Un obiettivo Per se stesso Ma è un obiettivo Per la nostra crescita E credo che anche questo Sia un buon Punto da ricordare E un buon punto Di partenza Per ridefinire La povertà L'obbedienza E tutti gli altri Fattori Che entrano Nella spiritualità cristiana Quindi grazie Grazie mille a tutti Ancora Grazie ai nostri interpreti Grazie a Marilde Per aver introdotto La sessione di oggi E vorrei invitarvi Allora Ai nostri prossimi incontri Nei 16 giorni Di attivismo Contro la violenza Di genere Domani Ci vedremo Alle 4 E' sempre orale europeo E parleremo degli abusi sacramentali Un tema piuttosto legato Agli abusi spirituali Ma ne parleremo In maniera un po' più concreta Perdonateci Ci perdoneranno Gli nostri ascoltatori australiani E neozelandesi Così come gli americani Ma purtroppo gli orari Sono questi Vi ringraziamo ancora molto E seguiteci Continuate a seguirci Noi ovviamente Conserveremo tutti i commenti E le domande Dalla chat E li useremo Per imparare ancora Altre cose nuove Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille